Cari spettatori, buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG Question Time. Come ogni venerdì in studio, Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Buonasera. Siamo un po' accaldati come tutti i novaresi, come tutti gli italiani, perché purtroppo le temperature sono elevate e continueranno ad aumentare. Purtroppo nei prossimi giorni questo, sappiamo, crea un grosso problema ovunque, particolarmente sul nostro territorio per quanto riguarda la scarsità dell'acqua. Qual è la situazione? Intanto ci sono state delle polemiche questa settimana con proteste davanti alla prefettura da parte degli agricoltori novaresi che hanno visto l'acqua andare nel territorio della Lomellina. Allora, giusto per inquadrare il tema e il problema. Nel nostro bacino, che comprende la provincia di Novara e la provincia del Verbano Cusiossola, a parte una piccola parte a nord del Verbano Cusiossola, che gestiscono autonomamente il ciclo idrico integrato, consumiamo, sono circa 480 mila persone in tutto, consumiamo 3.700 miliardi di litri d'acqua all'anno, 3.700 miliardi. Di questi 3.700 miliardi il 50% viene utilizzato in agricoltura, quindi per irrigare i campi, il 49% è ad uso industriale, quindi per le aziende, e l'1% è ad uso domestico. Solo l'1%, cioè per lavarsi, cucinare, bere, l'1% di questi 3.700 miliardi, che equivale a 37 miliardi di litri d'acqua all'anno, che divisa la popolazione, ti fa circa 225 litri a testa al giorno di consumo d'acqua. In questo calcolo però c'è dentro purtroppo una cosa che si chiama perdita idrica delle tubature, che c'è in tutta Italia, nel nostro territorio ha dei tassi di perdita all'acqua, quando viene incanalata nelle condutture, anche nei canali irrigui, di circa il 50-55% nella parte nord del territorio, quindi Verbania, quelle zone lì. Qui a Novara siamo intorno al 35-34%. Ora, è evidente che il problema più grande da affrontare è quello della perdita della rete idrica. E' così in tutto il paese, non è che c'è soltanto a Novara, ci sono delle zone in cui c'è di più e delle zone in cui c'è di meno. Ora, Acqua e Novara, VCO, che è quello che gestisce la rete idrica, che è la città che gestisce la rete idrica, che è di proprietà di tutti i comuni di questo territorio, ha fatto un piano industriale di investimenti per circa 150 milioni di euro per i prossimi anni, una gran parte delle quali verranno utilizzati proprio per questo, cioè per cercare di minimizzare le perdite idriche. E' questa una cosa ancora più importante da fare adesso, al di là dei comportamenti virtuosi da parte delle persone che non devono sprecare l'acqua, questo a prescindere, uno non deve sprecare l'acqua a prescindere dalla crisi idrica. Ma è ancora più importante fare quindi un'azione di questo genere, di monitoraggio e di interventi strutturali per minimizzare le perdite idriche, proprio perché sta cambiando il clima, come tutti sappiamo. Non è più come una volta che le montagne si riempivano di nevai, d'inverno, e poi i nevai quando si scioglievano davano l'acqua a tutto il territorio. Poi l'acqua arriva nella parte medio-alta del territorio, diciamo su vasconi superficiali che vengono utilizzati per poi portarla nelle abitazioni. Qui a Novara per esempio ci sono i pozzi, che sono a 80 metri sotto terra. Lo dicevamo la scorsa settimana, quindi non abbiamo problemi. E in questo momento non ci danno problemi per le utenze domestiche. Ci sono forti, fortissimi e anche gravi problemi sull'irrigazione agricola. L'irrigazione agricola è gestita dal consorzio Est-Sesia, che è un consorzio di diritto pubblico, perché comunque sia al controllo della regione Piemonte e della regione Lombardia, ma è composto da privati, quindi da tutti coloro i quali hanno bisogno dell'acqua per irrigare i propri campi. Allora è successo che nell'ultima settimana gli agricoltori novaresi si sono arrabbiati, secondo me anche giustamente, perché dopo aver già avuto un minore afflusso d'acqua, ovviamente non è colpa del clima, è colpa delle condizioni ambientali. Avere avuto un minore afflusso d'acqua, il consorzio ha deciso di chiudere l'irrigazione sul novaresi per qualche giorno per dare una mano all'irrigazione lomellina, dove non ci sono speranze, anche con questa operazione, di poter recuperare qualcosa. Quindi si va contro un principio di buon senso che è quello della minimizzazione del danno. Se io novara riesco a salvare diverse culture, produzioni cerealicole o comunque sia agricole, perché devo sprecare ulteriormente l'acqua che già ce n'è poca, per andare a darla solo così a chi so già che purtroppo non ne avrà beneficio? E' meglio salvare una cosa piuttosto che mandarle a Remengo 2. Perché comunque in lomellina la situazione è ancora più grave rispetto a noi. E' molto più grave, certamente sì. E quindi le culture sono già compromesse, per questo il grosso problema. Senta, nel breve però non mi sembra che possano esserci molti cambiamenti, perché a vedere le previsioni del tempo avremo ancora sole e temperature che sfioreranno i 40 gradi giovedì prossimo. Quindi se non arriva e così sembra la pioggia, come andrà la situazione? Cioè ormai gli agricoltori dovranno sacrificare? Dal punto di vista agricolo è veramente critica la situazione. Potrebbe, speriamo, ricominciare a piovere nelle prossime settimane. Già il livello dei laghi è sotto livello minimo idrico e quindi anche lì. Quindi i laghi non pompano, tra virgolette, cioè non canalizzano acqua nel canale, non arriva flusso d'acqua da nord. E quindi questa situazione è veramente preoccupante. Per l'agricoltura? Solo per l'agricoltura. Parliamo di un altro capitolo. Da ieri è possibile iscriversi sul piemontetivaccina.it per la somministrazione della quarta dose agli over 60. Over 60, soggetti fragili possono iscriversi al piemontetivaccina e andranno a fare il vaccino sulla base della prenotazione che riceveranno presso l'ASL, sto parlando ovviamente di Novara, città dei Novaresi, presso l'ASL di Viale Roma. Quindi non è previsto per ora? Per ora non è previsto alcuna, siamo in attesa di comunicazione da parte del Ministero della Salute e di conseguenza della Regione Piemonte per verificare se ci sia poi la necessità di riattivare un'ABA vaccinale nel prossimo autunno. Ma noi abbiamo già, diciamo così, le idee chiare nel caso in cui ci venga detto di doverlo fare. Quindi siete già pronti ovviamente ad attivare tempo zero, ovviamente, gli AB, prima di tutto quello del Salone Borsa. Esatto. Altro argomento, il piano triennale di investimenti che è stato approvato. Sì, è stato dibattuto in commissione, è un piano corposo che prevede circa 35 milioni di euro di investimenti per il prossimo anno, ovviamente una parte di questi non si riuscirà a farli come avviene tutti gli anni, però non è che vanno persi, vengono riportati all'anno successivo per tante ragioni, anche perché, essendo un piano corposo, ovviamente gli uffici a star dietro a tutto fanno un po' di fatica. Però, anche perché, oltre agli investimenti classici standard, che sono le asfaltature delle strade, dei marciapiedi, sui quali rimettiamo ancora soldi anche quest'anno, c'è ancora tanto da fare, lo so, ma ogni anno noi programmiamo e si va avanti così, ci sono le scuole, gli antincendio, i parchi, le piste ciclabili. Oltre a quello ci sono tutti anche gli investimenti che dobbiamo gestire nel cosiddetto PNRR, cioè di tutta quella fase in più di investimenti straordinari che ci occupa molto tempo nella progettazione, negli appalti e nella gestione di tutto questo. Però è sicuramente nostra intenzione andare avanti in questo modo, perché la città ha bisogno di tanti investimenti, sia da un punto di vista di manutenzione ordinaria, che straordinaria, che anche di nuove strutture, perché per esempio nell'ultima settimana ci è stato comunicato che il nostro progetto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di altri, ci è stato finanziato, quindi il campo d'atletica del Gorla finalmente abbiamo trovato i soldi per poterlo rifare completamente e metterlo a nuovo. In più faremo una nuova palestra in un'area periferica della città, quindi nel quartiere Rizzottaglia, che sarà a disposizione ovviamente delle società che la gestiranno e anche dei cittadini, perché verrà fatta vicino a una scuola, a una scuola di Via Iovarra. Di Via Iovarra. Quindi comunque ci sono piccoli e grandi investimenti, manutenzione ordinaria e progetti che erano attesi da tempo. Tra questi c'è anche il bando Castello, tra l'altro, che scadrà, se non sbaglio, a settembre. Il 12 di settembre scade il bando per l'assegnazione degli spazi ristorativi del Castello, cioè chiunque abbia un progetto per fare un investimento e aprire un ristorante che deve avere determinate caratteristiche, quindi deve curare l'enogastronomio locale, prodotti a chilometri zero, perché è inserito all'interno di un bene culturale ed ambientale, e quindi ci sono degli specifici criteri da dover soddisfare. Chiunque abbia voglia di aprire questa attività all'interno del nostro Castello Viscontino Sforzesco, che continuerà ad ospitare mostre, adesso lì è stato trasferito il circolo dei lettori, quindi tutti i giorni ci sarà gente che frequenterà questo posto. Ecco, chiunque voglia aprire un'attività ristorativa di questo genere, può partecipare a questo bando, va sul sito della Fondazione Castello, lo scarica, vede quali sono i criteri per la partecipazione al bando, poi ci sarà una commissione tecnica che valuterà il progetto migliore e assegnerà di conseguenza la gestione del ristorante. E poi arriviamo agli eventi, l'estate stellare sta andando veramente molto bene, mancano praticamente questa sera lo spettacolo di Pucci, che ha fatto sold out, altri spettacoli sono andati bene. Domani sera si chiude con Vecchioni e poi ne parleranno... Sì, ne parleremo con Benedetta Baraggioli, che è proprio la responsabile dei progetti culturali del Comune e domenica appunto parleremo di questo e avremo anche un'intervista a Katia Follesa e Angelo Pisani, che hanno avuto anche loro un grossissimo riscontro. Però ci sono anche delle salite notturne alla cupola, anche lì ieri sold out e abbiamo ancora due appuntamenti. Sì, di giovedì, il 21 luglio e il 28 di luglio sarà possibile in modo straordinario poter salire sulla nostra cupola all'ora del tramonto fino alle prime luglio, diciamo così, fino a quando diventerà buio e quindi questo ci consentirà comunque sia di allargare ulteriormente l'offerta, diciamo così, turistica legata alla visita della nostra cupola in uno scenario ancora più suggestivo. E anche un po' più fresco, perché salendo lì sopra probabilmente si gode... Probabilmente non ci sono i moscerini là sopra. Quelli sicuramente non ci sono, speriamo anche un po' di fresco per salire, però sicuramente lo scenario e la nostra città da là sopra è davvero spettacolare. Quindi stellare potremmo dire, un'altra parte di estate stellare. Senta, grazie, ci vedremo venerdì prossimo con altre novità dalla nostra città. Grazie a voi. E grazie a tutti voi, come abbiamo già detto, appuntamento a domenica sera ore 20 per parlare dell'estate stellare novarese. Arrivederci. Grazie a tutti.